Rimuovere le macchie più ostinate può essere davvero frustrante, ma non con Vanish Polvere. Al contrario dei normali detergenti liquidi, Vanish Polvere li elimina al primo tentativo. Guarda il risultato. Ecco un'altra macchia appiccicosa di frutta. Vanish agisce anche a basse temperature. Macchia sparita! Vanish, fidati del rosa. E la macchia svanisce. E per i capi bianchi, prova Vanish Crystal White. È efficace anche in acqua fredda e i tuoi capi saranno più bianchi dopo un solo lavaggio. Vanish Crystal White. Vanish Crystal White.